Secondo giorno di sciopero per gli studenti dell'Istituto Alberghiero Ipsar Piranesi, sito e località Santa Venere, nel comune di Capaccio Pestum, a causa della presenza di topi che gironzonano indisturbati nel giardino della scuola e nelle aule dell'istituto, come testimoniano le foto che gli studenti hanno scattato. Considerato anche che la scuola è collocata in una zona di campagna, è facile riscontrare la presenza di ratti che si aggirano nei dintorni dell'istituto scolastico, in particolare nel giardino, che risulta in uno stato di abbandono e degrado, diventando così il luogo ideale per l'annidarsi di simili animali. Su questa situazione è di intervenire il dirigente scolastico Loredana Nicoletti. Chiaramente i ragazzi stanno scioperando per la presenza di topi, però io a questo punto voglio dire una cosa, è stata fatta una dirattizzazione ed è stata fatta a novembre, i primi di novembre, la prima settimana di novembre. Abbiamo fatto subito comunicazione alla provincia, la provincia immediatamente ha disposto la dirattizzazione. Chiaramente la cosa che va fatta e che io ho chiesto in provincia, così come ho chiesto anche al comune di Capaccio, perché noi abbiamo questa forte sinergia non solo con la provincia, ma anche con il comune, ho chiesto la bonifica della zona perimetrale dell'Ambassador, la parte che praticamente guarda alle campagne. Quella zona va bonificata, io spero che sia la provincia ma che anche il comune possano quanto prima soddisfare questa nostra richiesta, perché chiaramente laddove c'è presenza di sterpaglie, di foglie, si annidano chiaramente i topi. Le risorse sono poche, poi d'altronde il problema dei topi è un problema che riguarda anche il comune di Capaccio in maniera particolare evidentemente, perché all'inizio di settembre il comune ha dovuto chiudere la scuola primaria di Gromola proprio per la presenza di topi. Non meno di dieci giorni fa il comune ha dovuto sospendere le attività alla scuola secondaria di primo grado qui a Capaccio Scalo. Chiaramente l'Ambassador, così come anche Gromola, si trovano in una zona in campagna, per cui voglio dire è chiaro che la presenza del topo ci può stare tranquillamente. Questa mattina inoltre i rappresentanti di Istituto Vincenzo De Santi e Cosimo Cicalese hanno organizzato un incontro con il sindaco Palumbo e l'assessore all'istruzione Franco Sica per trovare una soluzione al problema. Dopo un sopralluogo nelle aule all'esterno della struttura con il sindaco e l'assessore è stata disposta la chiusura del plesso fino a martedì 21 novembre per bonificare l'area esterna e le classi contaminate dagli escrementi dei topi. Il nostro punto di vista è quello di essere vicino alla scuola e vicino ai ragazzi. Qualunque problema noi cerchiamo di affrontarlo, al di là delle competenze, noi ci troviamo in una scuola dove la competenza è della provincia. Però siamo consapevoli che la provincia è in grande difficoltà. Purtroppo una legge scelerata ha messo in ginocchio l'aspetto finanziario delle province e non riescono ad intervenire su cose importanti come le scuole. E per questo, con quello spirito di collaborazione, quella vicinanza ai ragazzi, noi siamo qui ad intervenire, a sostituire anche le eventuali competenze altrui. Soddisfatti dell'obiettivo raggiunto i rappresentanti di Istituto Vincenzo De Santi e Cosimo Cicalese per l'importante risultato. A nome di tutta la scuola da rappresentante di Istituto, io e Cosimo Cicalese ringraziamo tutti gli alunni che hanno partecipato con noi in questo sciopero e ringraziamo il Comune per essersi messo all'opera al posto di altri enti, al posto degli enti provinciali. Quindi a nome di tutta la scuola ringrazio. e purtroppo era uno sciopero, questo sciopero serviva a dare voce e a spiegare i problemi che c'erano in questa scuola. Quindi ringrazio specialmente il Comune, l'assessore Franco Sica e il sindaco Palumbo per averci sostenuto e per aver organizzato stesso oggi l'assemblea che si è tenuta con tutti i rappresentanti della scuola dell'Ambassador e con qualche genitore. Grazie.